Io lo lascio immaginare a voi, anche perché la regista apre questa finestra, nel senso che c'è una libera immaginazione. Per quanto mi riguarda il mio personaggio è anche molto deludente, perché non fa nulla per fermarla, poi gli viene questo scatto di ira, di orgoglio anche, di rabbia. Però non lo reputo un personaggio positivo, ecco. Scusate l'emozione, come mi immagino il mio futuro? La domanda era come mi immagino il mio futuro. Per me è veramente complicato, anche dal personaggio si vede che lei insegue un sogno e che alla fine raggiunge in parte, perché viene anche delusa allo stesso tempo. E come ripeto, il sogno non era neanche il mio, era quello che inseguiva mia madre e chi ha trasportato poi a me. Per cui mi sono sporcata di una cosa che non avevo colpe, cioè è una bambina poi in fin dei conti. E poi sì, è vero, io sono molto più aggressiva durante il film, sono molto più con gli artigli, più che prendo Filippo e lo trascino insieme a me, invece poi all'ultimo è lui che tira fuori la forza che io poi non ho avuto. E questo è quello che vedo anche nel mio futuro, cioè che non riesco a immaginare quello che verrà dopo. Adesso sto qui e domani non lo so, per cui vedremo. Durante tutto il film è il personaggio di Giulia, Gina, che è più forte, proprio come diceva Giulia prima, che conduce il gioco, che si inventa, immagina dei mondi per questa giornata per tutte e due, Filippo la segue. E alla fine, quando questa loro giornata si va a schiantare in qualche modo sul mondo adulto e quindi da ragazza e ragazzo fanno questa specie di passaggio a uomo e donna, è Filippo che ha la possibilità di, che ha questo scatto e Giulia che invece è stata molto forte per tutto il film, si cede. E questo secondo me è interessante, comunque sempre narrativamente sono interessanti i cambiamenti. Questo è un film che gioca molto sui cambiamenti di toni, come avete visto, passa dalla commedia, dalla leggerezza a un'estrema crudezza. E poi è bello che appunto i personaggi facciano quello che non ci si aspetta. E poi questo deriva anche da un'osservazione che ho potuto fare io personalmente, in quanto madre, frequentando moltissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Mi ha sempre colpito questo fatto che generalmente le bambine o le ragazze hanno spesso dei temperamenti più forti o sono più intraprendenti, più scafate, come si dice, dei loro amichetti maschi. E poi quando si entra sulla soglia del dover invece essere donne e uomini, c'è questo ribaltamento. Forse perché appunto il mondo fuori, fuori dall'infanzia e dall'adolescenza, va in un solito vecchio modo. E questa forza, questa intraprendenza di queste ragazze, questa ragazza Giulia, è molto forte, ha un carattere molto forte durante tutto il film. E poi c'è questo crollo praticamente finale. Mi sembra abbastanza vero. Poi io non so se sono fatto. Cerco di fare delle cose in cui credo, crederci che siano secondo me vere, precise, autentiche. Perché gli emblemi, non lo so se si possano, sono due personaggi di una storia. Per quanto riguarda se questi ragazzi sono l'emblema, ecco, noi vogliamo fare un film su dei ragazzi normali che pensano, per cui è passata l'idea che per diventare qualcuno nella vita si possono fare anche queste cose. che non è una cosa strana, è una cosa che dura cinque minuti, che poi ce la dimentichiamo, però poi la vita si spalanca. E quindi, proprio con Francesca, per noi la cosa importante è che fossero due ragazzi, appunto, normali, ecco, non particolarmente arrivisti, non particolarmente... insomma, due come tutti, come tutti i ragazzi, come tanti ragazzi. Volevo dire, c'è qui Claudio Bigagli, sono due personaggi che mi sono ispirata dal libro che ha scritto Claudio Bigagli, quindi poi ho cambiato molte cose nella trama, però sui caratteri dei due ragazzi ci siamo molto avvalsi anche del lavoro di Bigagli, del suo libro. La nostra intenzione, spero che venga percepita come tale, è di fare un piccolo e di produrre, di girare un piccolo film, una piccola storia, una piccola favola, con un grande rapporto con quello che abbiamo di fronte tutti i giorni e forse in questo periodo stiamo rimuovendo rispetto a un passato recente. Per questa ragione ho preso una decisione di produrre questo film senza avvalermi di finanziamenti che avrebbero potuto falsare un rapporto che invece è stato molto... un bel rapporto tra il produttore e la regista nella libertà di espressione su un tema che è molto vicino. Siccome la radioattività del nostro passato recente ci ancora è sopra di noi, è una nuvola che è sopra di noi, pensavo che potesse esserci il rischio di creare dei substrati, delle frizioni, della sabbia dentro ai meccanismi di un piccolo film come questo. Per cui ce lo siamo prodotti in tranquillità ed è abbastanza anomalo perché è difficile trovare dei film in Italia con la situazione produttiva e industriale dei film finanziati autonomamente dal produttore senza apporti esterni. È anche un augurio che possa essere un esperimento che apre una strada perché il futuro del cinema e della televisione in generale dell'industria audiovisivo è legato alla capacità di rendere autonomi nella decisione e nella produzione, tutta la produzione indipendente. È stata una bella avventura, noi non abbiamo la pretesa perché anche per queste ragioni abbiamo mantenuto degli equilibri molto piccoli, però le scelte che ha fatto Francesca sono scelte molto radicali ma che hanno dato una grande capacità espressiva, cioè un film girato in sequenza e un film girato dentro alla realtà, cioè la realtà che sta intorno ai nostri protagonisti non è una realtà ricostruita con maestria ma è la realtà vera, cioè quando loro sono al ristorante, il ristorante funziona tranquillamente. Questo grazie anche alla tecnologia e alla maestria di Luca Bigazzi che è riuscito a filmare questa spontaneità senza danneggiare la qualità. C'è un rapporto con la bellezza in questo film che non è gratuito, che racconta e secondo me spiega, illustra molto dei personaggi, particolarmente del personaggio della mamma e della figlia, delle due donne. Questa ragazza è bella, è una bella ragazza e quindi in qualche modo è stata condotta a credere, sua madre più di lei, che questa bellezza, cosa che viene ripetuta continuamente intorno a noi, la bellezza è un valore, ha un valore, non solo un valore in quanto estetico, ma ha un valore come una merce. E quindi c'è questo rapporto di ricerca un po' ossessiva della bellezza del corpo, la bellezza delle facce, sia per la madre, soprattutto per la madre che lo trasferisce sulla figlia. C'è un rapporto anche con la bellezza dei luoghi, perché questa periferia, questo quartiere di Ponte di Nona, nel quale vivono loro due, è un quartiere nella periferia est di Roma, che è un quartiere che ha una sua forma anche di bellezza, queste casette di una bellezza un po' fatua quasi, che ha forse anche un rapporto con qualcosa di televisivo. queste case colorate, in mezzo al nulla, senza dei servizi, un quartiere piazzato lì, però con una cura estetica. E quindi io ho cercato di fare, e poi c'è tutto il, la cosa molto importante è il lavoro sul corpo della ragazza, che all'inizio quando si sveglia una bellissima ragazza, e mano a mano che la madre la trucca, la pettina, la traveste, si imbruttisce. Poi c'è tutto questo attraversamento della città, che è una città bellissima, una delle più belle città del mondo, che è Roma, la cui bellezza viene raccontata anche questa come una bellezza ferita, cioè una bellezza indiscutibile, che però ha continuamente quasi una tentazione di calpestarla questa bellezza, di utilizzarla e quindi di calpestarla. Quindi ho cercato di fare molta attenzione, ovviamente avvalendomi del grande talento di Luca Bigazzi, all'aspetto visivo del film, all'estetica, perché secondo me prendeva un significato morale e narrativo, non solamente estetico in questo film, perché il rapporto ossessivo con la bellezza può far precipitare la bellezza in qualcosa che è tutto il suo contrario. E secondo me questa cosa, che sto cercando confusamente di dirvi, è qualcosa che caratterizza molto il nostro paese in questi ultimi anni. Comunque sia, io penso che questo è un film, tengo a dire questo, in cui, diciamo che sprona i giovani, invita i giovani a non abbassare mai la testa, a crederci sempre nonostante queste difficoltà, cioè abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo. È un paese in crisi questo, in crisi per colpa di qualcuno, anche di governi passati, che non è stato fatto un grande lavoro sullo sviluppo. Però quindi questo è un film in cui invita i giovani a non mollare mai, a non scendere a compromessi, ma invita le istituzioni a fare di più per i giovani. Ecco, questo è quello che posso dire, poi non so perché non mi sento che con un film si possa raccontare una generazione. Il messaggio che voglio dare alle ragazze, che magari si presenteranno davanti a questa occasione, e penso ce ne sono centinaia che si sono ritrovate davanti a questa occasione, che è meglio comunque sia passare una vita a fare le pulizie, però stare bene con se stesse, che cedere il proprio corpo ad un uomo sconosciuto, persone che magari non interessa di te chi sei, che cosa fai, che cosa provi, ma solo per un ospizio personale, solo per mettere le mani addosso al tuo corpo. Ed è, non so, non so spiegarlo, io poi è difficile da spiegare, perché se ti ritrovi nella situazione, io mi dici, sono ritrovata, per finta, però solo l'idea di ritrovarmi lì, davanti ad un uomo che non conoscevo, ero terrorizzata, e Francesca lo sa benissimo, mi diceva Giulia, stai tranquilla, non lo devi fare veramente. E io stavo tutta, sì vabbè, però, per cui non lo auguro a nessuno, e il film darà una bella botta a chi ha passato questa esperienza.